Chiusura per la villa comunale salvo d'acquisto. Questo è quanto deciso dall'ordinanza dei giorni scorsi, annunciando i lavori di manutenzione e ripiantumazione che si potrarranno per circa 40 giorni. Una scelta in parte condivisa da parte dei cittadini, che invocavano da tempo interventi per riqualificare la zona. Dubbi e perplessità invece sulle tempistiche dei lavori. Secondo l'opinione dei torresi, infatti, si poteva intervenire nei mesi precedenti, caratterizzare dalle chiusure e dalle restrizioni. Lei cosa ne pensa? Il lavoro e la manutenzione va bene, ma se l'anno chiuso per non far andare le persone non penso che sia giusto. Basta disinfettare, sanificare e possono andarci tutti. Si poteva magari agire nei mesi precedenti quando siamo stati chiusi in casa? Si poteva approfittare per bonificare i rintorni. Ci volevano dei lavori di sistemazione, quindi per riqualificare la zona secondo me era necessario qualche lavoro di restauro. È un peccato però che con l'arrivo del bel tempo si sia chiusa un'area così aperta magari per portare i bambini dopo mesi difficili. Sì, questo sicuramente, però spero che i lavori durano poco, ne potremmo approfittare di quello poco spazio all'aperto che abbiamo per i bambini. Lei cosa ne pensa della chiusura della villa? Sto bello, se lo vuoi ne hanno chiuso. Che mi fa? È un peccato, no? Proprio adesso che si sta riaprendo con l'arrivo del bel tempo. Anche se è un peccato, no? Che si è chiusa la villa in arrivo del buon tempo. Abbiamo una cosa bella però non ci si può fare niente. È proprio in questi momenti che la gente aveva bisogno di un po' di libertà, i bambini che stanno chiusi da un anno e mezzo. Cioè ma quale volontà l'ha partorita questa cosa? Quale assessore? Quale sindaco? Chi l'ha partorita? Se è vero che sia per lavori mi sta bene perché poi la villa ultimamente era andata un po' integrato quindi va bene che faccia una cosa del genere però speriamo che lo aprano presto perché adesso vengono le belle giornate i bambini hanno finito di andare a scuola, il pomeriggio si regavano tutti lì a giocare a prendere un po' di altre cose. Quindi questa è la questione. Speriamo che facciano presto.